Dio è sublime quando si crocifisce in ogni suo figlio, perché pur facendolo non perde proprio nulla della sua grandezza, anzi, l'esatta. Infatti, quando un vero signore è un vero signore? Allora, immaginiamo che si debba passare per una porta e ci siano un gran signore e un povero che non ha alcuna grandezza. Il gran signore è veramente un gran signore quando dà la precedenza al piccolo e insignificante povero, perché pur facendolo non perde assolutamente nulla della sua grandezza, anzi, la sottolinea. Così è Dio, così è Dio Padre, l'assoluto, quando entra con la sua anima nell'anima destinata ad ogni suo figlio. C'è poi un'anima che deve costruire il proprio Dio ideale servendosi della storia del personaggio consegnato a quella anima per fondarsi su quel limite e risolvere aiutando l'assoluto come lo fa un soldato che dà il suo specifico contributo realizzando la forza complessiva di un esercito. Così siamo noi. Ciascuno di noi partecipa con il suo piccolo contributo, ma il nostro piccolo contributo è essenziale alla vittoria dell'esercito di Dio, perché l'esercito che Dio ha realizzato si avvale della libera capacità di ciascuno di noi e non la costringe al di là del suo ruolo, anzi risalta il suo ruolo in ogni ruolo che è stato conferito ad uno qualunque nell'esercito. c'è il ruolo del soldato, c'è il ruolo di chi lo comanda, chi chi comanda ci lo comanda e così di ordine in ordine fino al generale. Ognuno nel suo ruolo ha la libertà del suo ruolo. Quella ideale di stabilirla idealmente nel massimo dominio del proprio libero arbitrio di pensarla liberamente in un esame continuo che metta a confronto la storia consegnata da vivere con la vita ideale che ciascuno parebbe che fosse libero da quella storia. Ecco, il confronto tra il nostro ideale e la storia che ciascuno di noi è chiamato a vivere è all'origine della vita. Dio è veramente sublime in questo compito che assegna ad ogni singola parte nell'esistenza, non è che a repentaglio con quel limite, con quella delemizzazione la forza del suo essere assoluto. Ma tutto al contrario la determina. in modo reale, in modo concreto, trasformando così un qualcosa che è puramente in potenza in qualcos'altro che è in atto e che non sopprime il minimo, anzi lo imparsa fino a farne la parte essenziale, strutturale di tutta una infinita costruzione che esalta il limite e nello stesso tempo lo sublima arrivando a sublimare quel dio sublime che è posto al di là, oltre le singole cose di questa realtà.